Che devi fare qua, Giorgio? Servizio TV, qua. Faccio città venta, online, in sud. Ma perché avete visto l'amica? Stanno già le comuniche venendo i ricchi. E che, 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 che... Chi ti chiede le comuniche? Per il caso è urgente, non c'è il limite. Teniamo il tecnicolo. Tu mi ha detto, tu hai detto, io non mi posso fare. Io, invece, devo...